Questo razzo sta per abbattersi al suolo, colpendo persone ed edifici. Ma ecco che entra in azione il sistema antimissilistico israeliano Iron Dome. Un missile viene sparato, quasi istantaneamente per intercettare il razzo. Gli si avvicina e appena gli arriva accanto, esplode eliminando la minaccia. Iron Dome è un sistema di difesa missilistico unico al mondo, che ha protetto Israele da circa il 90% dei razzi che gli sono stati lanciati contro negli ultimi anni e negli ultimi giorni dalla striscia di Gaza e da altri territori, come il sud del Libano. In questo video vediamo come funziona dal punto di vista tecnico. Non toccheremo invece la situazione geopolitica e storica. Ripeto, questo non è un video politico ma tecnico. Se parliamo di Iron Dome, non significa che a sua volta Israele non bombardi la striscia di Gaza, per intenderci. Comunque, rispetto agli eventi in corso, abbiamo realizzato un video ad hoc aggiornato alla mattinata del 10 ottobre. Mentre sulle cause storiche del conflitto, come promesso, stiamo scrivendo un video specifico che arriverà nei prossimi giorni. Ragazzi, quando ci sono news e approfondimenti da fare Geopop si precipita e c'è sempre. Per cui, se volete premiare questo nostro lavoro, mi raccomando, per noi è essenziale. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Basta un click, grazie mille e torniamo a noi. Iron Dome significa letteralmente cupola di ferro. Infatti il nome richiama un'ipotetica calotta da immaginare in aria che rappresenta la portata della difesa antimissilistica israeliana o, in altre parole, il raggio d'azione dei missili israeliani che intercettano le minacce nemiche. Vediamo come funziona. Iron Dome è costituito da una decina di sistemi di difesa che sono installati su tutto il territorio israeliano e che sono mobili e quindi possono essere spostati a piacimento nel paese, a seconda delle necessità. Ciascun sistema è chiamato in gergo batteria ed è composto da tre componenti. C'è un sistema di radar, un centro di controllo ed elaborazione dei dati e tre o quattro unità di fuoco, ognuna delle quali può contare su 20 missili e può essere poi ricaricata. Quando un razzo viene lanciato dal territorio nemico, il sistema di radar di Iron Dome lo rileva, ad una distanza variabile che va tra i 3 e i 72 chilometri circa, e calcola la sua traiettoria di lancio. Se il razzo non rappresenta una minaccia, il centro di controllo ed elaborazione dei dati lascia che si schianti al suolo, preservando i missili, visto che ognuno di questi costa circa 50.000 dollari. Altrimenti viene effettuato il lancio di un missile e in certi casi addirittura di due, proprio per essere certi di abbattere il bersaglio. A questo punto, quello che fa il missile non è scontrarsi direttamente col razzo nemico. Si avvicina invece alla giusta distanza dal bersaglio per poi esplodere. La deflagrazione e la nuvola di schegge metalliche che ne derivano distruggono quindi il razzo nemico. Ovviamente è cruciale che la traiettoria del missile sia corretta. Se per esempio il missile arriva perpendicolarmente al razzo nemico, l'esplosione probabilmente non riesce a colpirlo. Invece, accostandosi in parallelo, il missile solitamente riesce a distruggere il bersaglio. Tutto questo processo richiede una manciata di secondi, ed è per questo motivo che Iron Dome fa più fatica a intercettare i razzi che hanno come obiettivo un luogo molto vicino al loro punto di lancio. Il sistema infatti riesce ad abbattere un bersaglio entro 15 secondi dal suo lancio. Se il volo del razzo è più breve, il sistema antimissilistico non riesce a intervenire. Di conseguenza, i territori di Israele più vicini, molto vicini ai confini con la striscia di Gaza o con il sud del Libano, sono più esposti a potenziali rischi. Un ultimo appunto dal punto di vista tecnico. Tutta questa manovra funziona anche di notte e con qualsiasi condizione meteo. Ora, abbiamo visto il funzionamento di Iron Dome. Ma quando si è deciso di realizzarlo? Lo sviluppo di Iron Dome è iniziato a dicembre del 2007 e si è trattato di un progetto estremamente costoso, visto che tra la sua costruzione e la sua manutenzione sono stati spesi e continuano ad essere spesi diversi miliardi di dollari. Questa spesa è stata possibile grazie al cofinanziamento degli Stati Uniti e la sua realizzazione è durata circa quattro anni, visto che a marzo 2011 era già pienamente operativo. Pensate che dopo meno di un mese dall'inaugurazione, cioè il 7 aprile 2011, venne utilizzato per la prima volta per intercettare un missile in arrivo dalla striscia di Gaza. Da allora è stato usato per abbattere migliaia di razzi e si stima abbia un tasso di successo, come dicevamo prima, che si aggira intorno all'80-90%. Ma a questo punto qualcuno di voi si starà chiedendo qual è la differenza tra i missili utilizzati dall'Iron Dome e i razzi che partono dal territorio della striscia di Gaza o dal territorio di Hezbollah? Partiamo dal missile intercettore usato da Israele dall'Iron Dome, cioè il missile Tamir. È lungo 3 metri, ha 16 centimetri di diametro e pesa 90 kg, sulla punta a quello che in inglese si chiama proximity fuse, ovvero la tecnologia che fa deflagrare automaticamente il missile quando si trova a una certa distanza dal bersaglio. Ha anche delle piccole pinne, sono le alette stabilizzatrici, che insieme a dei sensori ottici permettono di cambiare la traiettoria in volo. Come detto, il sistema Iron Dome copre degli attacchi che arrivano fino a una distanza di 70 km circa. Per chi non è esperto del settore potrebbe sembrare comunque una buona distanza. Ma considerate che un missile viene definito a corto raggio quando riesce a raggiungere fino a 1000 km. Quindi parliamo davvero di brevissime distanze. Il motivo è che i razzi nemici che deve abbattere sono razzi rudimentali. In particolare sono soprattutto quelli lanciati da Hamas, il gruppo politico e militare che opera nella striscia di Gaza, in Palestina. Nell'arsenale dell'organizzazione ci sono varie tipologie di armamenti. Sono molto noti, ad esempio, i razzi Kassam, che sono razzi abbastanza rudimentali, artigianali, e che, a seconda del modello, hanno gittate di qualche chilometro o leggermente più ampie, di qualche decina di chilometri. In ogni caso hanno un basso potenziale esplosivo e non sono per nulla precisi. Altre organizzazioni arabo-palestinesi e la stessa organizzazione libanese Hezbollah, invece, utilizzano razzi differenti. Giusto per chiudere il cerchio, in chiusura, Israele non è dotata solo del sistema Iron Dome, che, come abbiamo visto, protegge lo Stato ebraico da razzi a brevissimo raggio, ma anche di altri sistemi di difesa contro missili a medio e lungo raggio, come i Patriot americani. Ragazzi, spero che questa puntata più tecnica vi sia piaciuta. Come vi anticipavo in apertura, stiamo anche realizzando altri video dal punto di vista storico e geopolitico sulla questione israelo-palestinese, per cui continuate a seguirci perché arriveranno. Ma permettetemi anche di ringraziare un canale AI Telly che ci ha consentito di utilizzare alcune delle sue coperture. Grazie mille di averci seguito e ci vediamo sempre qui per un prossimo video su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!